Ciao, piacere, mi chiamo Pasquale, come l'uovo. Sì, è coerente con la forma, vero? Eh, diciamo. Io mi chiamo Iva, come l'acconto. È coerente con la piacevolezza. Sempatico. Senti, Pasquale, hai una fragranza molto particolare, cos'è? No, è che lavoro in una sezione di servizio, uso la benzina come dopo bar, ma disinfetta rilascia un profumo di maschio, molto virile. Certo, beh, volevo accendermi una sigaretta, magari evito. Eh no, certo, se no facciamo la fine dei Fantastici Quattro, io faccio la torcia umana. Ecco qua la donna invisibile.